Allora, mi è stato chiesto di spiegare come realizzare un riquadro in Unity che permetta di far vedere un video a piacimento. Io ho fatto un progetto molto semplice qua, in cui ho messo un quad, che sarebbe... Allora, facciamo... Ok. Vedete che ho messo un quad, che è semplicemente un game object molto semplice, 3D. Si chiama quad, perché è soltanto uno schermino. Gli ho messo anche un video player e poi ho cercato di mettere un video in questo schermo. Quindi la sequenza per farlo, in realtà, in alcuni casi non è proprio iperbanale. C'è un pochino contorta, a mio avviso, ma ha sicuramente la sua ragione d'essere. Il video che volete mettere, dovete... Questo è un video .mp4. Dovete infilarlo qua dentro, dentro gli asset. E poi accertatevi che sia visibile qua sulla destra, che c'è un play. E vedete che il video sembra funzionare con la freccina, eccetera. Affinché funzioni, non è detto che tutti i .mp4 funzionino out of the box. Per riuscire a farli funzionare dovete fargli il transcode. Quando si fa il transcode, si clicca e poi si fa il play. E lui ci impiega sui 10 minuti, se il video è un po' lunghetto. E fa una trascodifica perché cerca di metterlo in un formato che viene riconosciuto da Unity, evidentemente. Come si fa a realizzare questa cosa qua? Occorre anche creare una rendered texture. Questa rendered texture la create qua sotto. create e qui abbiamo, tra le tante cose, una rendered texture. La rendered texture, che è questa, la impostate, credo che sia il default. Su questa rendered texture verrà poi proiettato il video. E questa rendered texture deve essere associata al quad. Quindi se voi vedete il quad, è associato in qualche modo. Quindi intanto c'è un... Comunque potete anche semplicemente appoggiarglielo dinamicamente nel... Forse qua nei materials... Vedete che nell'elemente qui c'è video shown, che è questo qua. Che è la nostra render text che è stata messa sopra. O se no, semplicemente la potete anche trascinare in questo modo e ottenete lo stesso effetto. Ok, una volta che la render texture, questo signore, è messa lì sopra, dovete andare sul video player e sul video player gli associate il videoclip. Tentato di mettergli la possibilità di mettergli una urla, ma assolutamente credo che funzioni soltanto se il punto Mp4 sia molto particolare. Altrimenti è meglio mettergli il videoclip e poi andare a mettergli il videoclip che c'è qua. Quindi questo glielo andate a appoggiare qua sopra. Ok? Questo video è fatto così. Poi, facendo così, play on awake, il video parte subito. Quindi se io clicco qua e faccio il play di questa scena... Vedi che parte subito. Se invece noi vogliamo che il video non parta subito, dobbiamo fare un piccolo script che io in questo caso ho associato, forse al quad. Al quad vedete che gli ho associato uno script che si chiama click.me, quindi gli ho creato ex novo, e dentro lo script ho fatto questo codice che è abbastanza semplice. Quindi gli ho messo due variabili, public e video player, con usingUnitEngineVideo, qua, punto video, e poi gli ho messo un bool active uguale false. Il public serve per poter far vedere sulla destra questo campo per poterlo associare al video player. E invece poi, on mouse down, questo capita quando si clicca e si lascia andare il mouse sull'oggetto. E io qui ho messo un flag, active, false, true. Quindi ogni volta che clicco o fa il play oppure fa il stop. E poi fa ancora un debug log. E inverte lo stato in modo tale da farlo. Si fa il build di questo oggetto e poi si torna sul nostro progetto e a questo punto facendo il play vedete che non parte più da solo, anche se c'è ancora la texture vecchia. Per farlo partire devo, intanto qui possiamo mettere il suo console, e poi clicco qua e vedete che è on mouse. E poi mettete sul video, se lo riclicco viene spento. E quando è spento non ho sentito ovviamente niente. Se lo ricliccate riparte da zero. Poi se studiate un po' il video player, magari ci sono anche delle opzioni per partire da un punto, ma non le ho viste al momento. Questo mi sembra un po' tutto per spiegare come mettere un oggetto in questo modo. Se per caso, facendo delle prove, ho visto che in alcuni casi non prende l'audio. Quindi si vede, parte eccetera, ma non sono riuscito su alcuni MP4 a fargli prendere l'audio. Se per caso voi siete anche in quella situazione, fatemelo sapere, vi faccio vedere un altro piccolo script, una virgola più complicata, che però permette di mettere a posto anche l'eventuale audio. Per il momento è tutto.